Questa settimana l'Agenzia Corrispondenza Romana propone la promessa di fedeltà all'insegnamento autentico della Chiesa dal titolo Fedeli alla vera dottrina, non ai pastori che sbagliano. È stata diffusa lo scorso 12 dicembre feste nella Madonna di Guadalupe ed è stata sottoscritta dai leader dei principali movimenti pro vita e pro famiglia di tutto il mondo. Il documento è stato pubblicato sul sito fidelitypledge.com con la firma di oltre 35 organizzazioni di 13 nazioni diverse. Ecco il testo integrale della promessa di fedeltà all'insegnamento autentico della Chiesa. Il numero di bambini innocenti uccisi dall'aborto nel corso del secolo scorso è maggiore di quello di tutti gli esseri umani che siano morti in tutte le guerre della storia umana. Gli ultimi 50 anni hanno testimoniato una continua escalation di attacchi alla struttura della famiglia come è stata progettata e voluta da Dio, capace di creare il migliore ambiente per una sana e vigorosa crescita dell'uomo e soprattutto per l'educazione e la formazione dei bambini. Il divorzio, la contraccezione, l'accettazione di atti di unione omosessuali e la diffusione della cosiddetta ideologia di genere hanno causato danni incommensurabili alla famiglia e ai suoi membri più vulnerabili. Degli ultimi 50 anni il movimento Pro Vita e Pro Famiglia è cresciuto in dimensione e portata per far fronte a questi gravi mali che minacciano sia il bene temporale che quello eterno dell'umanità. Il nostro movimento comprende uomini e donne di buona volontà provenienti da una grande vadietà di ambiti religiosi. Siamo tutti insieme uniti nella difesa della famiglia e dei nostri fratelli e sorelle più vulnerabili attraverso l'obbedienza alla legge naturale impressa in tutti i nostri cuori. D'altronde in questa ultima metà di secolo il movimento Pro Vita e Pro Famiglia si è affidato in modo particolare agli insegnamenti immutabili della Chiesa Cattolica che afferma la legge morale con la massima chiarezza. E' quindi con grande dolore che negli ultimi anni abbiamo dovuto constatare che la chiarezza dottrinale e morale su questioni legate alla tutela della vita umana e della famiglia è stata sempre più sostituita da dottrine ambigue e persino direttamente contrarie all'insegnamento di Cristo e ai precetti della legge naturale. Una supplica filiale consegnata a Papa Francesco nel settembre 2015 è stata firmata da circa 900.000 persone provenienti da tutto il mondo. Nel 2016 è stata presentata una dichiarazione di fedeltà all'insegnamento immutabile della Chiesa sul matrimonio. Il 19 settembre 2016 i quattro cardinali hanno sottoposto cinque dubbi a Papa Francesco e alla Congregazione per la dottrina della fede chiedendo chiarimenti su alcuni punti dottrinali contenuti dell'esortazione apostolica post-sinodale a Moris Letizia. Nel giugno 2017 i cardinali hanno reso pubblica la loro richiesta di essere convocati in udienza, richiesta presentata al Papa dal cardinale Carlo Caffarra il 25 aprile 2017, ma come dubbia non hanno ricevuto alcuna risposta. Il 23 settembre 2017 una Correxio Filialis de Resibus Propagatis è stata elaborata da 62 teologi accademici cattolici in merito alla propagazione di eresie causata dall'esortazione apostolica Moris Letizia ed altre parole, atti e omissioni di Papa Francesco. Il 4 novembre 2017 250 teologi e sacerdoti, professori e studiosi di tutte le nazionalità hanno sottoscritto il loro sostegno alla correzza. Le turbolenze in seno alla Chiesa sono in aumento, come testimoni una lettera inviata di recente a Papa Francesco da un eminente teologo che afferma «C'è causa nella Chiesa e vostra santità ne è una causa». Come leader cattolici pro vita e pro famiglia siamo tenuti a sottolineare numerose ulteriori dichiarazioni e azioni che hanno avuto un impatto particolarmente dannoso sul nostro lavoro per la protezione dei bambini non nati e della famiglia negli ultimi anni. Esempi rappresentativi includono dichiarazioni e azioni che contraddicono l'insegnamento della Chiesa sul male intrinseco degli atti contraccettivi, dichiarazioni e azioni che contraddicono l'insegnamento della Chiesa sulla natura del matrimonio e sul male intrinseco degli atti sessuali al di fuori dell'unione matrimoniale, l'approvazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che richiedono fortemente agli Stati membri la realizzazione di un accesso universale all'aborto, alla contraccezione e all'educazione sessuale entro il 2030. L'approccio adottato riguardo l'educazione sessuale, in particolare nel capitolo 7 di Amoris Laetitia, è nel programma The Meeting Point elaborato dal Pontificio Consiglio per la Famiglia. Come leader dei movimenti provite e profamiglia o dirigenti di movimenti laici che riguardano la difesa e la diffusione dell'insegnamento morale e sociale cattolico, siamo testimoni di prima mano del danno e della confusione causati da tanti insegnamenti e azioni. Al fine di rispettare le nostre responsabilità verso coloro che abbiamo promesso di proteggere, in particolare i bambini non nati e quelli particolarmente vulnerabili a causa dello sfascio della famiglia, dobbiamo chiarire la nostra posizione su questi temi. Dobbiamo anche fornire una leadership a coloro che all'interno del nostro movimento fanno riferimento a noi per avere guide e consigli. Per questo motivo desideriamo ribadire la nostra immutabile adesione alle posizioni morali fondamentali di seguito le scritte. Esistono certi atti intrinsecamente malvagi e che è sempre proibito commettere. L'uccisione diretta di un essere umano innocente è sempre gravemente immorale, di conseguenza l'aborto, l'eudanasia e il suicidio assistito sono atti intrinsecamente malvagi. Il matrimonio è l'unione esclusiva e indissolubile di un uomo e di una donna e tutti gli atti sessuali al di fuori del matrimonio e tutte le forme di unione contro natura sono intrinsecamente negativi e gravemente nocivi per gli individui e la società. L'adulterio è un grave peccato e coloro che vivono in adulterio non possono essere ammessi esattamente dalla penitenza e dalla santa comunione fino a quando non si pentono e non modificano la loro vita. I genitori sono gli educatori primari dei loro figli e l'educazione sessuale deve essere svolta dai genitori o in determinate circostanze nei centri educativi scelti e controllati da loro. La separazione del fine procreativo e univoco dall'atto sessuale attraverso metodi contraccettivi è intrinsecamente negativa e ha conseguenze devastanti per la famiglia, per la società e per la chiesa. I metodi di riproduzione artificiale sono gravemente immorali in quanto separano la procreazione dall'atto sessuale e nella maggior parte dei casi portano direttamente alla distruzione della vita umana nelle sue prime fasi. Ci sono solo due sessi, maschio e femmina, ognuno dei quali possiede le caratteristiche complementari e le differenze che sono loro proprie. Gli atti omosessuali sono intrinsecamente cattivi e nessuna forma di unione tra persone dello stesso sesso può essere approvata in alcun modo. Come leader cattolici pro vita e pro famiglia dobbiamo restare fedeli al nostro Signore Gesù Cristo che ha affidato il deposito della fede e la sua chiesa. Noi siamo obbligati per fede a rendere a Dio rivelatore piena sottomissione dell'intelletto e della volontà. Aderiamo pienamente a tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio e si trovano nella scrittura e nella tradizione e che sono proposte dalla chiesa come principio a cui credere perché divinamente rivelati. sia in base al suo solenne giudizio sia per suo magistero ordinario e universale. Dichiariamo la nostra completa obbedienza alla gerarchia della chiesa cattolica nel legittimo esercizio della sua autorità. Tuttavia nulla potrà mai convincerci o obbligarci ad abbandonare o contraddire qualsiasi articolo della fede e della morale cattolica. Se esiste conflitto tra le parole e gli atti di qualsiasi membro della gerarchia compreso il Papa e la dottrina compreso il Papa e la dottrina che la chiesa ha sempre insegnato rimarremo fedeli all'insegnamento perenne della chiesa. Se dovessimo abbandonare la fede cattolica ci separeremmo da Gesù Cristo a cui vogliamo essere uniti per tutta l'eternità. Noi sottoscritti promettiamo di continuare ad insegnare e propagare i principi morali sopra elencati e ogni altro insegnamento utente con la chiesa cattolica e che mai per nessuna ragione ci allontaneremo da essi.